Samanglana farà questo spettacolo proprio in occasione di questa iniziativa dell'associazione di Martin e del CRAM, uno spettacolo importante per ribadire cosa in particolare? Che l'arte, la creatività, il teatro, la musica, se si occupano di questi temi fanno sì che questi temi non vengono dimenticati o strumentalizzati dalla politica, ancora peggio. Quindi è bello dare voce a chi voce non ne ha ancora e vorrei ribadire che la storia dell'Eritrea in questo caso e del Corno d'Africa in generale è una storia molto vicina alla storia italiana. Questo spettacolo un po' racconta anche questo, cioè che le nostre storie sono state intrecciate nel passato e che quindi i frutti di questo intreccio ancora sono visibili nel presente e probabilmente anche nel futuro. Rosamara racconta di questo intreccio. Come regione voi appoggiate in pieno questa iniziativa? Sicuramente è un'iniziativa lodevole. Io sono convinto che nella nostra cultura, nel nostro DNA ci sta un grande affetto, una grande capacità di accoglienza e non quello che qualcuno magari dice predestesamente in questi periodi per quanto riguarda l'accoglienza dei nostri immigrati. Abbiamo il dovere, il diritto e sicuramente la cultura per concepire un'accoglienza adeguata, un affetto, una solidarietà per i tanti uomini che dal Nord Africa vengono qui, uomini e donne nelle varie difficoltà dei territori di provenienza.